Amura è in giapponese un'espressione che indica l'amore per il proprio luogo, per la propria tana, per il proprio luogo di vita. Pietro Maggio è responsabile commerciale del marchio Amura e collaboro con il team che ha sviluppato il marchio Amura ormai da 28 anni. Il marchio Amura nasce dall'ispirazione del nostro territorio, dei nostri luoghi, quindi per noi è stato curativo in quel senso. Ma poi dall'altra parte per quello che noi cerchiamo di dare ai nostri clienti, cioè rendere i loro luoghi più aderenti a loro stessi in realtà. Il nome deriva dal nome della città in cui la maggior parte di noi del team del marchio Amura siamo nati, siamo cresciuti prima di andare in giro per il mondo, per il lavoro, che è Altamura. Però Amura è in giapponese un'espressione che indica l'amore per il proprio luogo, per la propria tana, per il proprio luogo di vita. La unicità, perché noi ci siamo ispirati a un territorio unico, che è il territorio della Murgia, che ha delle peculiarità veramente uniche, è un territorio molto brullo, molto difficile. Poi i nostri prodotti sono tutti fatti per essere il più modulabili possibili e questo perché vogliamo che l'acquisto di un prodotto Amura sia un acquisto a lungo termine. Quindi se il cliente cambia casa, se il cliente cambia disposizione, il prodotto Amura cambia insieme al cliente. La semplicità, cioè i nostri prodotti sono tutti poco disegnati, hanno delle particolarità molto sottili nel loro disegno che li rendono senza tempo. E' il lapis, un po' perché è stato il prodotto che ha fatto partire la scintilla di questo progetto e poi perché è il prodotto che più di tutti gli altri e prima di tutti gli altri impersonifica l'identità di Amura. Quindi il lapis significa pietra in latino e la nostra Murgia è una terra fatta di pietre. Emanuele Gargano, che è il designer che ha appunto disegnato il lapis, si è ispirato a questa irregolarità dell'acciottolato del centro storico di Amura, alla pietra dell'Amura e ne ha tirato fuori un prodotto molto revigato, molto puro, ma irregolare, con delle particolarità e delle peculiarità che lo rendono unico. Amura si rivolge comunque a un cliente che non ha come primo interesse andare dietro a una moda, e quindi a un brand e quindi a qualcosa che già c'è, un cliente che viaggia, un cliente che ha culturato, un cliente che ha anche a cuore qualcosa che per noi è molto importante, cioè il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità di quello che compra. Dare più lavoro possibile alle persone del nostro territorio, agli artigiani nel nostro territorio e quindi aumentare la nostra presenza nel mondo. Però in realtà sogniamo anche che il nostro approccio di sostenibilità diventi il fulcro del più possibile delle decisioni di acquisto in tutti i campi. Siamo molto contenti di lavorare con voi, speriamo di avere sempre più contatti con la vostra community e siamo qui a disposizione per ogni richiesta e ogni desiderio. Salbini Design Worldwide Salbini.com Salbini